insalata in centrifuga o in centrifuga come tu vuoi dire che via allora perché no perché no perché non usare la lavatrice per fare l'insalata vedete no noi picciolo va bene così perché vuol dire che gli è vecchia l'ho presa nel campo davanti a casa qui alla rotonda allora si va a mettere in questa lavatrice e gli si dà una risciacquata a 90 gradi per levagli la mota per levagli diciamo il fango ecco o le forme con gli insetti le mosche le zanzare il piscio gli si dà una bella risciacquata qualsiasi modello di lavatrice va bene questa è che gli è mi pare un pochino trasandata allora poi si va a mettere qui nella vaschetta olio aceto sale o è cresciuto la muffa vada aspetta no che gli è qui nel roso vada che dirci me si costisce mettere io e io la mangio vedete l'insalata mettici un po di hand e gina la fifa bono buttaci l'ammorbidente poi tu senti magna immorbida e tu la mangi vai vai o dell'altro o vai ma chiudilo il portellone lo sti a il pomodorino ciglia gina a questo di ai pomodorino non strano preso qui a balla o vai il tricciolo un altro tricciolo ma il tricciolo lo mette per intero se gli si mette per tralisce voglio vedere come fa dopo a ricadarlo vabbè io l'avevo fatta a fettine comunque e vai gli si dà di centrifuga vedi che lavoro ragazzi questa sì che gli hanno insalata buona io starei ora a guardare questo che fa dall'alba insalata in lavatrice aspetta va contempiamo in lupe in lupe per due ore lo metto da ma ora non ti si sciupa un pochino la non ti diventa nera dopo no ma neanche belle tagliate all'incovercio o che lavatrice va avanti andrea io l'insalata ragazzi questi come minimo di un vegano o un vegano insomma come si dice vabbè per me è pronta di è cotta chissà il lavaggio il lavaggio va fatto a freddo perché sono e scolora scolora va fatta la valla va a ghiaccio o va è una bella rimasta affinare che le vagli le gocciole le gocciole dell'acqua in eccesso il detersivo sai come la deve sapere di detersivo tipo il floro mi quando tutti i lavidenti no il conduttorio per me il sapore di è il solito non so che che sapore abbidasce però mi immagino sarà qualcosa di chi ne pensa allora clean lavata e fresca e c'è ragazzi mamma gli americani gli americani gli americani vai eccola ma nemmeno le galline ma non ecco testa un fa di furbino testa di un'altra per bene si è di ecco testa va il pomodoro un centifolo rimane a in cui modo fare il furbo attacca il muro vischero si è ok una sega vai infilano un culo testo dito grazie grazie